Ma ragazzi, ma dov'è finito Paolo? Davide scusami ma che ore sono? Sono le 12 e un quarto 12 e un quarto! Alle 16 abbiamo lo spettacolo e non sappiamo neanche dov'è il teatro Ma adesso come possiamo fare? Aspetta che provo a chiamarlo Eh prova a chiamarlo brava, non ci ho pensato Paolo ma dove sei finito? Paolo cavoli che ti stiamo aspettando, siamo in ritardo Dobbiamo andare al teatro, non ti ricordi più No Jessica scusami, è che sono dovuto rientrare Perché avevo un movimento, una riunione molto movimentata Adesso sto appunto spingendo perché finisca questa riunione Se no altrimenti non saprei Mi raccomando, sei veloce Sì, certo No, 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 arrivo, arrivo Voi state lì che io sto per arrivare Allora ci vediamo in teatro No, no, assolutamente È che veramente qui quando ci sono queste cose movimentate Non sa quando deve finire, capisci Ciao Oh, che amico La riunione sì La riunione del gabinetto sono Dai, dai che devo andare da cella, forza Andiamo, cominciamo a incamminarci Dom Jessica David, prendi sul tuo borsello Che andiamo Cominciamo ad andare al teatro Vi aspettiamo quello là Ciao Arriva Ah, David, a proposito Ricorda i nostri amici dello spettacolo, per favore Vi aspettiamo tutti Al cineteatro di Trecella Alle ore 16 Domenica 10 aprile Non mancate Che c'è anche la compagnia tetrale in intesa Con lo sketch non ci resta che ridere Addio Al cineteatro di Trecella 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 Al cineteatro di Trecella